La statale 283 delle Terme è interrotta dal 28 giugno 2021. Da più di un anno gli automobilisti sono costretti a viaggiare su una strada alternativa per raggiungere San Marco Argentano e la 2, Salerno di Gio Calabria. Per chi come noi oggi imbocca l'arteria a Guardia Piemontese, i blocchi di cemento e le transenne sbarrano la strada all'altezza del viadotto Pietrabianca. Il tratto è interrotto dal chilometro 15 al chilometro 18 a causa del cedimento strutturale del viadotto Valleleto, avvenuto appunto 14 mesi fa. Da allora questa strada provinciale rappresenta la bretella che riconduce alla statale dopo 4 km circa di curve, asfalto in pessime condizioni e strettoie. La strada è percorsa anche da mezzi pesanti, con l'auto riusciamo a passare senza affanni ma l'incrocio tra due camion o bus potrebbe creare qualche problema ed è successo. Ci hanno provato in tanti a smuovere la situazione, intanto i 34 sindaci che nel dicembre 2021, a distanza di sei mesi dalla chiusura, hanno interessato la Regione, il Ministero delle Infrastrutture e l'ANAS per chiedere notizie sulla pratica dei lavori di ripristino nel viadotto. Poi nel corso dei mesi successivi hanno sollevato la questione i consiglieri regionali e deputati, sollecitazioni, sopralluoghi, interrogazioni che non hanno prodotto alcun risultato. La strada continua ad essere interrotta e molti, per evitare la fastidiosa e pericolosa deviazione, scelgono di prolungare il proprio tragitto percorrendo la stata le 107 e quindi contribuendo a intasare un'arteria già di per sé sovraccarica. Nei giorni scorsi l'intervento del sindaco di Cosenza Franz Caruso, che ha rivolto un appello alla Presidente della provincia di Cosenza, Rosario Succurro, per far affronte comune e promuovere l'immediata preapertura dell'intera arteria. L'intervento non è dei più semplici. Il monitoraggio della struttura del ponte ha evidenziato spostamenti che hanno causato lo scorrimento dell'impalcato sugli appoggi. La sistemazione del viadotto prevede il risanamento delle fondazioni, la rimessa in sesto dell'impalcato, la sistemazione sismica, ma tutto sembra essersi arenato e dopo la seconda estate trascorsa in queste condizioni i tempi di ripristino non sembrano brevi.